Siamo riusciti adesso finalmente a depositare l'avviso e conclusione delle indagini che verrà notificato agli indagati e ai loro difensori, già credo domani e nei prossimi giorni. Oltre ai reati di falsa comunicazione agli organi di vigilanza, di aggiotaggio bancario, ho inserito nell'avviso e conclusione delle indagini anche l'ipotesi di reato di falso in prospetto. Chiusa la prima tranche dell'inchiesta su Veneto Banca, quella che vede come parti offese lo stesso istituto di credito, Banca d'Italia e Consob, da 11 gli indagati rimangono in quattro, il presidente Flavio Trinca, il direttore Vincenzo Consoli, Mosè Faggiani, ex condirettore e responsabile commerciale e Stefano Bertolo, responsabile della direzione amministrativa di Veneto Banca. Per loro la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, ininfluente invece secondo le perizie il ruolo degli altri membri del CDA per i quali sarà chiesta l'archiviazione. Ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e da ora falso in prospetto le accuse contestate a vario titolo, quest'ultima si riferisce in particolare alle omissioni nelle informazioni fornite ai risparmiatori che nell'estate del 2014 parteciparono all'offerta pubblica di acquisto delle azioni della banca in fase di aumento di capitale, azioni il cui valore di lì a poco crollò. Un'indagine lunga e complessa, ferma due anni a Roma, poi riassegnata a Treviso, rallentata da problemi tecnici e dal mancato invio di rinforzi alla procura. Purtroppo, nonostante le richieste che sono state fatte, la nostra procura non ha ricevuto nessun tipo di risorsa aggiuntiva, né risorse umane, né risorse materiali, di attrezzature. Abbiamo dovuto arrangiarci sostanzialmente. L'attività, malgrado questo, prosegue anche relativamente agli altri rami di indagine, tra cui truffa, i risparmiatori e banca rotta. Quella per truffa dovrebbe concludersi a breve, meno di una decina gli indagati, a conferma che anche in questo caso si punta ai vertici, a chi decise le politiche della banca e non a chi eseguì. 3.500 le parti offese. Adesso siamo a buon punto, le indagini sono quasi concluse e quindi anche per quella auspico che nel giro di un mese o al massimo un paio di mesi di poter emettere l'avviso di conclusione delle indagini. Ciao.